La strada provinciale 262 è chiusa ormai da due mesi. La segnalettica a pochi chilometri prima fa deviare il percorso ai automobilisti verso una contrada del comune di Mirabella. I blocchi di cemento invece chiudono completamente la strada poco dopo il macello comunale. Una voragine ha inghiottito un lato della carreggiata della provinciale che collega i comuni di Sant'Angelo, Fontana Rosa, Taurasi con Mirabella. In realtà il problema esiste da più di due mesi. La strada alternativa alla provinciale 62 per raggiungere Mirabella e Clano franò più di un anno fa ma per mesi a causa dello smottamento è stato chiuso solo il lato interessato da lavoraggine. La 262 come concordato nell'estate 2016 da provincia, comune di Mirabella, tecnici e ingegneri rientra già da tempo tra le provinciali su cui intervenire ma al momento resta del tutto chiusa perché troppo pericolosa per poter essere percorsa. Resta comunque da mettere in sicurezza anche la provinciale 62 che collega invece diversi comuni con Mirabella e la frazione Passo, centri importanti per gli abitanti della media valle del calore per la presenza di molti esercizi commerciali. Una perdita d'acqua che corre lungo la strada ha compromesso l'asfalto e da circa nove anni gli automobilisti per evitare le buche si spostano sul lato opposto rischiando di impattare con chi viene dall'altro senso di marcia. C'è un'altra strada che da tempo il comune di Mirabella ha chiesto di mettere in sicurezza, è la provinciale 190 al centro di un contenzioso a quanto pare già risolto nel 2016 tra provincia e proprietario del fondo. Il muretto al lato della strada ha ceduto a causa dell'acqua proveniente dal terreno.